Serve un uomo, una persona molto speciale, invincibile, un uomo che non si arrenda mai. Sentiamo il piano. La più corposa serie poliziesco-giudiziaria prima di Law & Order e CSI. La serie ambientata alle Hawaii prima di Magnum P.I. L'originale, l'inimitabile, l'unica. Voglio il referto dell'autopsia immediatamente. Si tratta di omicidio. Hawaii Five-O, dal 4 marzo, su Fox Radio. Grazie a tutti.